Nella clinica romana di Corso d'Italia, oltre la vigilatissima porta numero 323, un ammalato illustre. Cadendo da una pedana di pochi centimetri, Domenico Modugno si è fratturato una tibia. La moglie, Franca Gandolfi, assiste il popolare Mimmo. Dopo l'intervento operatorio e superato il periodo di riposo, Mimmo potrà ricominciare a volare o a camminare per le strade ampose delle sue inimitabili creazioni. Stava provando la scena di una rivista assistina quando è scivolato. Presto sull'ingessatura fioriranno gli autografi degli amici. Auguri Mimmo, tra un mese libero!